Capitolo 16 14 anni Sapevo che portare Taylor a Cousins Beach sarebbe stato un errore. Lo sapevo, lo sapevo e lo feci comunque. Taylor Joule, la mia migliore amica. I ragazzi della nostra classe l'avevano soprannominata Tettona. Lei fingeva di non sopportarlo, ma segretamente ne era felice. Taylor diceva che ogni volta che tornavo dalla casa al mare doveva riconquistarmi. Doveva convincermi ad amare la mia vita vera, fatta di scuola, compagni e amici. Cercava di farmi mettere assieme all'amico più carino del tizio da cui lei era ossessionata in quel periodo. Io accettavo e magari andavamo al cinema o a mangiare un waffle, ma ero sempre un po' assorta, un po' assente. Quei ragazzi non reggevano il confronto con Conrad o Jeremia. Dunque, che senso aveva uscirci? Taylor era sempre quella bella, quella che faceva battere il cuore ai ragazzi. Io ero quella simpatica, quella che li faceva ridere. Pensavo che portandola a Cousins Beach le avrei dimostrato che anch'io ero bella. Vedete? Vedete, sono come lei, siamo uguali. Ma non lo eravamo e lo sapevano tutti. Pensavo che portare Taylor alla casa al mare mi avrebbe garantito un invito alle passeggiate notturne dei ragazzi sul lungomare o una nottata in spiaggia nei sacchiapelo. Pensavo che quell'estate la mia vita sociale sarebbe migliorata e che finalmente sarei stata al centro degli eventi. Avevo ragione, se non altro su quest'ultimo punto. Taylor mi aveva implorato senza sosta di portarla con me. Io mi ero opposta, sostenendo che la casa sarebbe stata troppo affollata, ma lei sapeva essere molto convincente. Era colpa mia. Mi ero vantata troppo dei ragazzi e poi in fondo in fondo volevo che venisse. Era la mia migliore amica, dopo tutto. Taylor odiava che non condividessimo tutto, ogni momento, ogni esperienza. Quando si iscrisse al corso di spagnolo insistette affinché lo seguissi anch'io. Ci sarà utile quando andremo in Messico, una volta laureate, mi disse. Io in realtà, per la laurea, avrei voluto andare alle isole Galapagos. Era quello il mio sogno. Volevo vedere una sulla piedi azzurri. Mio papà mi disse che mi ci avrebbe portato. Non lo raccontai a Taylor, però. Non ne sarebbe stata contenta. Mia madre e io andammo a prendere Taylor all'aeroporto. Scese dall'aereo con un paio di pantaloncini e una canottiera che non avevo mai visto. Mentre l'abbracciavo le domandai, cercando di non sembrare invidiosa, «Quando le hai comprati, questi vestiti?» «Mia mamma mi ha portato a comprare della roba da mare appena prima che partissi», mi rispose, porgendomi una delle sue sacche da viaggio. «Carini, vero?» «Sì, sono carini». La sacca era pesante. Mi domandai se si fosse dimenticata che sarebbe rimasta solo una settimana. «Si sente in colpa per il fatto che lei e papà divorzieranno. Così mi sta comprando di tutto», proseguì Taylor, alzando gli occhi al cielo. «Siamo perfino andati a farci la manicura e la pedicura assieme. Guarda!» Sollevò la mano destra. Aveva le unghie color lampone, lunghe e quadrate. «Sono vere?» «Ma certo, belli! Che pensavi? Non metto mica le unghie finte, io!» «Ma io credevo che dovessi tenerle corte per via del violino!» «Già, il violino! Mami finalmente mi ha fatto smettere violino, sempre per il discorso del divorzio», mi rispose con l'aria di chi la sapeva lunga. «Sai com'è!» Taylor era l'unica ragazza della nostra età, che conoscessi, che chiamava ancora Mami sua madre. Era anche l'unica che potesse permetterselo. Non appena arrivò, attirò l'attenzione dei ragazzi. La guardarono subito, controllando la sua seconda di reggiseno e i suoi capelli biondi. «È un reggiseno miracoloso», avrei voluto dirgli. «Si è data mezzo flacone di lozione Schultz». Di solito non aveva i capelli così chiari, non che a loro importasse qualcosa. Mio fratello, al contrario, distolse a malapena lo sguardo dalla tv. Taylor lo irritava, da sempre. Mi domandai se avesse già messo in guardia Conrad e Jeremiah contro di lei. «Ciao, Stephen», disse Taylor con tono cantilenante. «Ehi là», borbottò lui. Taylor mi guardò e fece una smorfia. «Che scontroso», sottolineò, muovendo solo le labbra. Risi. «Taylor, questi sono Conrad e Jeremiah. Stephen lo conosci». Ero curiosa di sapere chi dei due avrebbe scelto, chi avrebbe considerato più carino, più divertente, migliore. «Ciao», disse lei squadrandoli, e capì subito che aveva scelto Conrad. E ne fui felice, perché sapevo che Conrad non le sarebbe mai andato dietro. Mai. «Ciao», risposero loro. Poi Conrad si voltò di nuovo verso la tv, proprio come pensavo avrebbe fatto. Jeremiah le offrì uno dei suoi sorrisetti e aggiunse «Dunque sei amica di Belli, eh? Noi pensavamo che non avessi amici». Aspettai che Jeremiah mi sorridesse per mostrarmi che stava solo scherzando, ma lui non mi guardò neppure. «Taci, Jeremiah», gli ordinai. E fu allora che mi sorrise, ma in modo frettoloso per tornare subito a guardare Taylor. «Belli ha un sacco di amici», replicò Taylor con la sua aria spigliata. «Ti sembrò una che frequenta gli sfigati?» «Sì», rispose mio fratello dal divano facendo capolino. Taylor gli lanciò un'occhiataccia. «Torna a farti una sega, Stephen». Si voltò verso di me e mi chiese «Perché non mi fai vedere la nostra stanza?» «Sì, Belli, cosa aspetti? Perché non fai da schiavetta, Taylor?» concluse Stephen. Poi tornò a distendersi. Lo ignorai. «Vieni, Taylor». Non appena fumò in camera mia, Taylor si fiondò sul letto vicino alla finestra, il mio letto, quello in cui avevo sempre dormito. «Oh mio Dio, com'è carino!» «Quale?» le comandai, anche se sapevo a chi si riferiva. «Quello moro, ovviamente! A me piacciono gli uomini mori!» Dentro di me alzai gli occhi al cielo. «Uomini?» Taylor era uscita soltanto con due ragazzi in vita sua e nessuno dei due somigliava vagamente a un uomo. «Dubito che tu abbia speranze!» le dissi. «A Conrad non interessano le ragazze!» Sapevo che non era vero, gli importavano e come. Angie, la ragazza dell'estate passata, gli interessava proprio tanto. Gli occhi marroni di Taylor luccicarono. «Io amo le sfide! Non mi hanno forse eletta rappresentante di classe l'anno scorso e anche l'anno prima!» «Certo, me lo ricordo! Ero io a occuparmi della tua campagna elettorale!» «Conrad, però, è diverso, è...» esitai, cercando la parola giusta per spaventare Taylor. «Come dire... un po' disturbato!» «Che cosa?» strillò lei. Feci subito marcia indietro. Forse «disturbato» era un termine troppo forte. «Non è esattamente disturbato, solo molto profondo! Serio! È meglio che tu vada dietro a Jeremiah! Lui è più il tuo tipo!» «Cosa vorresti dire, belli?» mi chiese Taylor. «Che io sono una persona superficiale?» «Beh...» Taylor era profonda quanto una piscina per bambini. «Lasciamo perdere!» aprì una sacca e iniziò a tirare fuori la sua roba. «Geremia è carino, ma io voglio Conrad! Gli farò perdere la testa!» «Poi non dire che non ti avevo avvisata!» «Non vedevo l'ora di poter esclamare! Te l'avevo detto io!» «Prima o poi, quel momento sarebbe arrivato!» Taylor sollevò un bichini giallo a poire. «Che dici? È abbastanza striminzito per Conrad?» «Quel bichini non starebbe neppure a Bridget!» risposi. «La sua sorellina Bridget aveva sette anni ed era piccola per la sua età!» «Esatto!» «Alzai gli occhi al cielo!» «Non dire che non ti avevo avvisata!» «E poi il letto su cui sei seduta è il mio!» Indossammo subito i costumi. Taylor si mise il suo minuscolo bichini giallo e io il mio costume intero nero con il reggiseno contenitivo e castigatissimo. Mentre ci cambiavamo, Taylor mi diede un'occhiata e disse «Belli, ti sono venute delle tette enormi!» Io mi tolsi la maglietta e risposi «Insomma…» «Ma era vero! Erano cresciute! Quasi da un giorno all'altro! L'estate prima non le avevo, questo era certo! Le odiavo! Mi rallentavano! Non potevo più correre veloce! Era troppo imbarazzante!» «Era per quello che indossavo magliette larghe e costumi interi! Non sopportavo di sentire i commenti dei ragazzi! Mi avrebbero sicuramente presa in giro! Stephen mi avrebbe ordinato di andarmi a coprire, facendomi vergognare a morte!» «Che taglia porti adesso?» mi chiese Taylor in tono accusatorio. «La seconda!» mentii. «Era più una terza!» Parve sollevata. «Bene, abbiamo ancora la stessa taglia allora, perché anch'io in pratica ho una seconda! Perché non ti metti uno dei miei bichini? Con quel costume sembra che tu sia pronta per una gara di nuoto!» Ne sollevò un altro a strisce blu e bianche e i fiocchi rossi sui fianchi. «Io faccio nuoto!» le ricordai. Durante l'inverno avevo fatto nuoto con la squadra del mio quartiere. D'estate non potevo gareggiare perché ero sempre a Cousins. Nuotare mi faceva sentire legata alla mia vita estiva, quasi fosse solo una questione di tempo prima di tornare ancora una volta al mare. «Ah, non ricordarmelo!» replicò Taylor. Fece penzolare il bichini. «Questo ti starebbe divinamente, con i tuoi capelli castani e le tue nuove tette!» Feci una smorfia e respinsi il bichini. «In parte avrei voluto mettermi in mostra e mandare invisibilio i ragazzi, facendo vedere quanto ero cresciuta e che ero diventata una vera ragazza. Ma la mia parte più assennata sapeva che si trattava di un istinto suicida. Steven mi avrebbe gettato un asciugamano in testa e io avrei avuto di nuovo l'impressione di avere dieci anni invece di quattordici». «Ma perché?» «Perché mi piace fare le vasche in piscina», risposi. E in effetti era vero. Taylor si strinse nelle spalle. «D'accordo, ma poi non dare la colpa a me se i ragazzi non ti rivolgeranno la parola».» Risposi a mia volta con un'alzata di spalle. «Non mi interessa se mi rivolgono o no la parola. Io non penso a loro in quei termini». «Come no? Tu sei ossessionata da Conrad da quando ti conosco. L'anno scorso a scuola ti rifiutavi addirittura di parlare con gli altri ragazzi». «Taylor si tratta di moltissimo tempo fa. Ora Conrad e Jeremiah sono come fratelli per me, proprio come Steven», insistetti, infilandomi un paio di pantaloncini sportivi. «Parla con loro quanto vuoi». La verità era che mi piacevano entrambi, in maniera diversa, e non volevo che Taylor lo sapesse, perché a prescindere da chi avesse scelto, l'altro sarebbe stato uno scarto. E comunque, Taylor non si sarebbe mai lasciata influenzare. Avrebbe mirato in ogni caso a Conrad. Io avrei voluto dirle «tutti tranne Conrad». Ma non sarebbe stato vero, non fino in fondo. Sarei stata gelosa anche se avesse scelto Jeremiah, perché lui era amico mio, non suo». Taylor ci mise un'eternità a scegliere un paio di occhiali da sole che stessero bene con il suo bikini. Ne aveva portati quattro paia, due riviste e l'olio solare. Quando uscimmo, i ragazzi erano già in piscina. Io mi tolsi subito i vestiti, pronta a saltare in acqua. Ma Taylor esitò, il telo da mare stretto attorno alle spalle. Capì che il suo costume striminzito l'aveva fatta diventare di colpo nervosa. E ne ero felice. Mi ero un po' stancata delle sue ostentazioni. I ragazzi non si voltarono neppure a guardarci. Dato che c'era Taylor, temevo che non volessero fare le solite cose, che si comportassero diversamente. Invece stavano giocando in acqua, mettendoci grande impegno. Mentre mi toglievo le infradito con un calcio, dissi, entriamo in piscina. Mi sa che prima mi stenderò un po', rispose Taylor. Finalmente si tolse il telo e lo sistemò su un lettino. Non vuoi stenderti anche tu? No, fa caldo e voglio nuotare. E poi io sono già bronzata. Era vero, stavo diventando color cioccolato. D'estate sembravo una persona totalmente diversa. E forse era questo l'aspetto più interessante di quel periodo. Taylor al contrario era pallida e lucente come un impasto per biscotti. Sentivo però che si sarebbe presto messa in pari con me. Era brava in questo. Mi tolsi gli occhiali e li posai sopra i vestiti. Poi mi diressi verso il lato dove l'acqua era più profonda e mi tuffai. Quando tornai in superficie, raggiunsi i ragazzi. Giochiamo a Marco Polo, dissi. Stephen, che era impegnato a spingere sotto Conrad, si fermò e rispose. Marco Polo è noioso. Allora giochiamo al gioco del coniglio, suggeriggere Maya. Che cos'è? Chiesi io. È quando due squadre salgono sulle spalle del compagno e cercano di spingere giù l'avversario, spiegò mio fratello. È divertente, giuro, mi assicurò Geremaia. Poi chiamò Taylor. Tyler, vuoi giocare al coniglio con noi? Oppure sei fifona come un coniglio? Taylor sollevò lo sguardo dalla rivista. Non le vedevo gli occhi per via degli occhiali da sole, ma sapevo che era infastidita. Mi chiamo Taylor, non Tyler, Jeremy. E no, non voglio giocare. Stephen e Conrad si scambiarono un'occhiata. Sapevo cosa stavano pensando. Forza Taylor, sarà divertente, aggiunsi io, alzando gli occhi al cielo. Non fare il coniglio. Lei ostentò un sospiro, poi mise giù la rivista e si alzò, risistemandosi il bichini sul di dietro. Devo togliermi gli occhiali? Geremaia gli sorrise. Non se sei in squadra con me, io non ti lascerò cadere. Taylor se li tolse comunque, e fu allora che mi accorsi che eravamo dispari e che qualcuno sarebbe dovuto restare fuori. Io vi guardo, proposi, anche se avrei voluto partecipare. Non c'è problema, resto fuori io, rispose Conrad. Faremo due turni, disse Stephen. Conrad si strinse nelle spalle. D'accordo, e si spostò verso il bordo. Io scelgo Taylor, annunciò Geremaia. Non è giusto, lei è più leggera, ribatte Stephen. Poi si voltò e vide l'espressione che avevo in faccia. È solo che tu sei più alta. Mi passò la voglia di giocare. Allora rimango fuori io, non voglio mica spezzarti la schiena, Stephen, intervenne Geremaia. Che diamine ti prendo io, belli, butteremo giù questi due. Secondo me tu sei molto più tosta della piccola Taylor. Taylor scese lentamente gli scalini della piscina, rabbrividendo per la temperatura. Io sono tostissima, Jeremy. Allora Geremaia si accovacciò in acqua e io mi arrampicai sulle sue spalle. Era scivoloso, per cui in un primo momento fu difficile restarci sopra. Poi si tirò su e tornò in posizione eretta. Mi sistemai e mi tenne in equilibrio con le mani sulla sua testa. Sono troppo pesante? Gli chiesi a voce bassa. Era così magro e asciutto che avevo paura di spezzarlo. Sei una piuma! Mentì, respirando a fatica e aggrappandosi alle mie gambe. In quel momento avrei voluto baciargli la testa. Di fronte a noi, Taylor era pollaiata sulle spalle di Stephen. Ridacchiava e gli tirava i capelli per tenersi ferma. Stephen sembrava sul punto di togliersela di dosso e scaraventarla in acqua. «Pronti?» chiese Geremaia e a me sussurrò. «Il trucco è ristare i saldi!» Stephen annui e noi procedemmo verso il centro della piscina. Conrad, che era a galla su un lato, disse. «Pronti? Partenza? Via!» Taylor e io allungammo le braccia l'una verso l'altra. Lei non riusciva a smettere di ridere e quando le diedi una spinta esclamò «Merda!» e cadde, trascinando giù mio fratello. Geremaia e io scoppiamo a ridere e ci demmo il 5. Quando i nostri avversari tornarono in superficie, Stephen lanciò un'occhiataccia a Taylor e disse «Te l'avevo detto di tenerti forte!» Lei lo schizzò in faccia e gli rispose «Ma io l'ho fatto!» Aveva l'eyeliner sbavato e il mascara che iniziava a colare. Era ancora bella, però. Geremaia disse «Belli?» Io risposi «Eh?» Iniziavo a sentirmi piuttosto a mio agio là sopra, così in alto. «Occhio!» Poi barcollò in avanti e finimmo tutti e due in acqua. Non riuscivo a smettere di ridere e inghiottì un sacco di acqua, ma non me ne curai. Quando le nostre teste riemersero, io mi gettai sulla sua e la immersi ben bene, cogliendolo di sorpresa. Allora Taylor propose «Giochiamo di nuovo! Stavolta io sto con Jeremy! Stephen, tu vai in squadra con Belli!» Stephen, ancora stizzito, disse «Conrad, prendi il mio posto!» «D'accordo!» rispose Conrad, ma la sua voce rivelò che non ne aveva affatto voglia. Quando mi raggiunse a nuoto, io dichiarai in modo difensivo «Guarda che non sono poi così pesante!» «Io non l'ho mai detto!» Poi si chinò e io gli salì sulle spalle. Erano più muscolose di quelle di Jeremiah, più massicce. «Stai comoda?» «Sì!» Davanti a noi Taylor faceva fatica a salire sulle spalle di Jeremiah. Continuava a scivolare e a ridere. Si stavano divertendo un sacco. Troppo! Li guardai con invidia e quasi dimenticai che Conrad mi stava tenendo le gambe e non mi aveva mai sfiorata prima, neppure per sbaglio. «Forza, giochiamo!» dissi, con un tono che suonò invidioso perfino alle mie orecchie. Mi odiai per quello. Conrad ebbe meno problemi a spostarsi al centro della piscina. Rimasi sorpresa dalla facilità con cui si muoveva, malgrado mi portasse sulle spalle. «Pronti?» chiese Conrad a Jeremiah e Taylor, che era finalmente riuscita a rimanere in equilibrio. «Sì!» gridò lei. «Pensai, adesso ti faccio cadere!» «Sì!» urlai. Mi sporsi in avanti e usai tutte e due le mani per darle uno spintone. Lei oscillò da una parte, ma rimase su e disclamò «Ehi!» Io sorrisi, «Ehi!» dissi e la spinsi di nuovo. Taylor socchiuse gli occhi e mi respinse con forza, ma non abbastanza. Allora iniziamo a spingerci a vicenda, ma per me era più facile perché mi sentivo più salda. Le diedi una spinta decisa e lei cadde in avanti mentre Jeremiah rimase in piedi. Battei le mani. Mi stavo divertendo da matti. Rimasi sorpresa che Conrad mi allungasse la mano per darmi il 5. Non era da lui. Quando Taylor riaffiorò in superficie, non rideva. Aveva i capelli appiattiti sulla testa. «Questo gioco fa schifo!» disse. «Voglio smettere!» «Non sai perdere!» replicai e Conrad mi calò in acqua. «Ottimo lavoro!» mi disse, mostrandomi uno dei suoi rari sorrisi. Quel sorriso mi diede la sensazione di aver vinto la lotteria. «Io gioco per vincere!» risposi. E sapevo che per lui era lo stesso.